Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo, risponderò sul senso di vuoto, quel senso di inadeguatezza, di vuoto, veramente vuoto ragazzi, che sentiamo dentro di noi. Io l'ho sentito per tanti, tanti e tantissimi anni quando ero uno studente lavoratore a Modena senza una in tasca e mi sentivo quel vuoto dentro, quell'insoddisfazione, quel non essere appagati, soddisfatti come un bambino quando beve il latte della mamma ma prima di berlo, di ciucciare le tette, il latte della mamma è insoddisfatto, urla, piange, grida, un urlo in silenzio, un urlo silenzioso, delle urla silenziosi, ecco come lo definisco io quel senso di vuoto, di rabbia, di insoddisfazione, di frustrazione, di apatia ragazzi, ok? E purtroppo oggi nel 2020 possiamo dire tra qualche giorno la gente ha per il più delle volte quel senso di vuoto, anche se non lo manifesta, anche se non lo dice in giro, anche se non lo fa, non fa partecipi, i suoi cari di quel senso di vuoto, come ripeto succedeva a me tantissimi anni fa. Poi grazie all'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, il sottoscritto se n'è uscito e guarda caso, non soddisfatto, una volta diventato professionista dell'ipnosi vera e professionale e coniato il mio metodo, metodo dicesse del dottor Claudio Saracino, ho replicato quello che è successo a me su ogni fronte della mia esistenza, sul mio corpo, sulla mia mente, sulle mie attività, eccetera eccetera, su centinaia, centinaia, ripeto, centinaia di persone nel mondo, in Italia e anche all'estero, anche a Los Angeles, con risultati incredibili. Non devi credere al sottoscritto, a parte il fatto che c'è una documentazione scientifica internazionale sull'Anset, sull'Aif, su altre fonti e siti accreditati che parlano di ipnosi vera e professionale, a parte questo ricordati che tutte le altre scienze cambiano il nome ma alla fine parlano di una sola cosa, della mente dell'essere umano, delle leggi della mente dell'essere umano, che purtroppo i poteri forti non ci hanno mai trasmesso, non ci hanno mai dato il libretto delle istruzioni, il manuale delle istruzioni. Quindi ci troviamo, come tante pecorelle su questa terra, a mangiare, a pascerci, a nutrirci di ciò che gli altri ci inculcano, dalla TV, ai TG paura, alle trasmissioni strappalacrime e quindi stiamo sempre così. Alle pubblicità, ragazzi, che creano quel bisogno immaginario non reale, un bisogno inesistente di fatto e che però se non trovo soddisfazione dall'altra parte, se non mi compro quel macchinone, se non mi compro quell'aereo, se non mi compro quel vestito, se non mi compro quel kinder, se non mi compro quella cosa lì, io rimango sempre con quel vuoto, con quella insoddisfazione e frustrazione che razionalmente, con la ragione e con la logica, non riesco a capire il perché, come non riuscivo a capirlo neanche io. Però adesso, a distanza di tantissimi anni, finalmente ho capito il concetto che se qualcuno mi instilla nel mio subcosciente, nel mio pilota automatico, nel mio genio della lampada di Aladino, dei bisogni che poi io non riesco a soddisfare, vuoi per la società, vuoi per i miei programmi o le mie convinzioni inconsce, come uso dire io, più che programmi, bene mi sentirò frustrato come una famosa pubblicità della Renault nell'arena, che attaccata con le catene, se la mia stessa età ti ricorderai di quella pubblicità, e che sbatteva, sbatteva, rombava il motore potente della Renault in quell'arena dell'antica Roma, ma non si muoveva di là. Ecco, una persona che vuole, ma non riesce, perché qualche forza, qualcuno, qualcosa è più forte di lui, ecco come si sente. Si sente impotente, con quel senso di vuoto, quella frustrazione, quella rabbia, quel fuoco dentro perché vuole, ma non riesce, non sa il perché, e te lo dico io il perché, ti dico anche il come uscirte, nel perché alberga, abita, vive nel tuo subcosciente, nel tuo regno che è la tua mente, i tuoi pensieri, se non cambi mentalità, mindset, pensieri, non li cambi soltanto così, dalla sera alla mattina, ma li puoi cambiare in un flat soltanto con l'ipnosi, e con l'autoipnosi vera e professionale, senza se, senza mai, e ricordati, funziona l'ipnosi per tutto, per tutto e per tutti, che ne dica qualche guru internazionale, funziona per tutto e per tutti, aggiungo con il mio metodo, anche contro la tua volontà, contro chi non vuole, vuoi perché è pieno di sensi di colpa, per cui il suo inconscio vuole punirlo. o anche perché è impossibilitato a chiedere aiuto, tipo si trova in coma, ha un autismo, è allettato perché è vecchio di 90 anni, 70 anni, è incapacitato a seguirti, tu che ipnotizzi, anche te che ipnotizzi, non puoi fare l'ipnosi a tutti, con il mio metodo invece la puoi fare a tutti, anche bambini di 4 anni, 6 anni, eccetera, 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 con risultati incredibili. Io lo so che adesso ti sembro un invasato, ma ti posso garantire che sono stato tanti anni ipnotista autodidatta e quando ho visto il metodo della dottoressa Brunini del professor Garai di Los Angeles Beverly Hills ho esclamato wow, e poi l'ho fatto mio ragazzi, incredibile, non c'entra nulla con l'ipnosi conformista e commerciale, pur salvandone la bontà, perché io ho iniziato così, attenzione, mischiando da autodidatta, fregandomene del giudizio degli altri e anche adesso molti parenti e non mi prendono per perfuso, per uno che non sa cosa dice, che non sa cosa fa, eppure vedono i risultati che ho e continuano ad essere, a continuare a farsi, ad essere ipnotizzati dalla massa, per cui non credere al sottoscritto, credi ai fatti, prova, 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 presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, se non vuoi andare lì, prova magari un audio mp3 dcs, della mia associazione ipnology associati, che sono intrisi di quelle suggestioni di un sapere antico che non trovi in giro, poi se non hai voglia di utilizzarli perché sono ripeto, di auto ipnosi dcs vera e professionale, puoi iniziare magari anche con degli audio gratis che trovi su internet, la differenza è che con i miei li puoi utilizzare anche su chi non vuole, hanno risultati perenni e duraturi, mentre con altri magari sono temporanei, perché io notavo quando ho ascoltato vario materiale anche gratis a pagamento che si trova in giro, che i risultati svanivano nel breve termine, e poi ricordati, gli audio dcs mp3 di auto ipnosi il vero e professionale del dottor Claudio Saracino, di Los Angeles Beverly Hills, di questo sapere antico, di queste suggestioni veramente uniche al mondo, sono state testate su centinaia e centinaia, per non dire migliaia di persone nel mondo, soprattutto a Los Angeles, anche a Hollywood e in tutta l'America Latina, ma soprattutto sul sottoscritto, io da dieci anni mi auto ipnotizzo H24, anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra, guardami, sono una persona normalissima, eppure sono ipnotizzato, tu dirai ma che sta dicendo questo qui, sì sono ipnotizzato, i bambini sono H24 ipnotizzati, soprattutto i bambini fino a sei anni, ma anche fino a dieci, perché sono in un continuo stato di trans, vigile si chiama, significa recepiscono tutto ciò che tu gli dici a livello esponenziale, alla velocità della luce, non credere al sottoscritto ragazzi, e anche un adulto può stare in questo stato idilliaco, di potenza, di energia, di equilibrio, in questo momento qualcuno mi può dare anche mille pugni in faccia, non me ne fregherebbe nulla, non me ne fregherebbe nulla, perché ho impostato la mia mente a reggere la pressione, un tempo invece perdevo la pazienza in un anno secondo, perché ipnotizzato dal mio passato negativo, dal mio padre, che era più delle volte rabbioso, vittima di altre vittime, un grande papà però che si arrabbiava in un anno secondo, eccetera eccetera eccetera, per cui non credere al sottoscritto, prova prova, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, gratis, compatibilmente ai miei impegni, ai miei tempi, visita la mia fanpage su Facebook ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com e iscriviti anche su questo canale YouTube benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla come la definisco io, come è successo a me tanti anni fa per cambiare la vita e visita anche i miei figli Instagram e Twitter benessere ipnosi soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e ricordati, 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 conclusione delle conclusioni, la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi, quindi a me che tu compri o non compri l'MP3 audio, MP3 di CS, di ipnosi, di autipnosi vera e professionale della mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, non mi può fregare nemmeno, ok? Grazie a Dio non ho bisogno di mangiare con i cd come fa altra gente con gli audio MP3, io sto dicendo documentati e se tu sei nel mondo dell'ipnosi aiuti la gente, scrivimi come fare per imparare il mio metodo e io te lo trasmetterò, ok? Non ci sono problemi, un bacio, un abbraccio e alla prossima dal dottor Claudio Saracino